Salve ragazzi, benvenuti in un nuovo video qui sul canale, oggi tratteremo della mia postazione 2023 che è un po' che non l'aggiorniamo che è un po' anzi che non vi aggiorno sulla condizione della mia schiavania, quindi partiamo subito Allora, sì, come vi stavo dicendo, oggi facciamo vedere la postazione che ho ben qui dietro ma partiamo dal monitor, il monitor è sempre lo stesso, il mio bel LG da 34 pollici 21 noni sempre di sopra c'è la mia videocamera e il Mac che va a governare tutto quanto qui sotto abbiamo sempre le nostre periferiche della siera e poi lì sotto il mio hub con il trackpad e poi un echo input che mi aiuta a regolare le due lampade che ho qui e qui Cosa ho aggiunto rispetto all'ultima volta? Ho aggiunto questo pianale in legno che mi aiuta a guadagnare spazio infatti ho apporto il monitor qui sopra e lì sotto tengo banalmente la da sera con il mouse quindi guadagno semplicemente spazio Qui ho aggiunto il mio HomePod mini che avevi visto in qualche video fa e qui c'è un bellissimo iPad di prima, no non di prima generazione ma tra le prime generazioni che comunque fa sempre il suo po' sporco effetto ora troverò mai un posto per mai metterlo così o comunque sistemarlo meglio Qui a fianco ho aggiunto una Apple TV con l'Ethernet perché qui giù non arriva il Wi-Fi e che è collegata appunto a questo bellissimo monitor e mi serve appunto per guardare i film semplicemente quando mi alleno o generalmente quando sono qui in studio lì sotto possiamo trovare le mie cuffie che uso per montare o comunque anche per giocare alla Playstation qui a fianco di solito c'è il mio iPad che in questo momento è un po' sporco non lo so, va bene così e che di solito fa da secondo schermo per il mio Mac quindi uso Universal Control in questo modo e qui abbiamo il supporto di Ikea che in questo momento non mi sta sponsorizzando ma probabilmente nessuno mi sta sponsorizzando in questo momento che uso per poggiare il mio iPhone quindi vedere le notifiche più recenti dunque non c'è tanto altro che posso aggiungere perché comunque queste sono le periferiche che ho aggiunto è un video poiché altro veloce di aggiornamento poi magari arriverà un video futuro quando aggiungerò in miglior modo la scrivania con magari più upgrade per oggi anche per oggi è tutto spero che questo video anche se breve vi sia piaciuto noi ci vediamo più e più con il prossimo video qui sul canale sui Alex ciao ragazzi ciao